E' stata una vera festa la manifestazione organizzata dalla BCC di Fano che ha visto protagonisti 200 bambini e ragazzi delle scuole del territorio. Attraverso video, balli, canti e fotografie gli studenti hanno presentato le attività realizzate nell'anno scolastico 2014-2015 nell'ambito del progetto regionale Crescere nella Cooperazione, promosso dalle BCC marchigiane in collaborazione con la Regione Marche, Conf Cooperative e l'Università di Urbino. A presentare la manifestazione il Vice Direttore BCC di Fano, Marco Pancrazzi, con l'aiuto di alcuni assistenti speciali, i comici del San Costanzo Show. Ho coinvolto tantissime iniziative di cooperative scolastiche, quindi iniziative che sono veramente imprenditoriali da ogni punto di vista, allenano i ragazzi a confrontarsi con realtà diverse dalle loro, quelle scolastiche, nell'ambito della collaborazione progetto scuola e lavoro, ma guardando anche quello che di concreto si può fare da un punto di vista economico. Sul palco si sono alternate sei associazioni cooperative scolastiche e anche quest'anno il progetto è stato esteso alle scuole secondarie di secondo grado. Per la BCC di Fano, ad Ancona, per le premiazioni regionali al Teatro delle Muse, ha partecipato la classe seconda A dell'Istituto Tecnico Battisti. Un'esperienza che per noi è importantissima, anche in vista proprio di avere poi soci anche nella banca, che siamo oltre 6.000. Oggi è una giornata di festa, quindi sicuramente vedremo i lavori che hanno fatto, poi avranno la possibilità anche di confrontarsi con i loro amici di altre BCC nelle Marche, in Ancona, quindi credo che sia veramente un motivo anche di ottimismo per il futuro.